Alessandra Celentano, Milano, 17 novembre 1966, è una coreografa ed ex ballerina italiana. Dopo una carriera con ruoli da prima ballerina nell'atterballetto in coreografie di Alvin Eili, William Forsythe, George Balanchine e Glenn Tetley, lavora con Elisabetta Terabuste Amedeo Amodio e diventa maîtresse dei ballet al Teatro alla Scala, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. È la figlia di Alessandro Celentano, 1920-2009, il fratello del cantante Adriano Celentano, che è quindi suo zio, e cugina del cantautore Gino Santercole. Da bambina inizia a studiare danza con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all'Opera di Stato di Budapest. Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente. A metà degli anni Ottanta entra a far parte della Terballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del Novecento, Eili, Balanchine, Forsyte, Tetli, Childs e altri, e balla accanto a grandi interpreti del mondo della danza, Elisabetta Terabuste, Alessandra Ferri, Monique Ludaier, Alessandro Molin, Vladimir Derebianco, Julio Bocca. Prende parte a tornei in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela. Diretta da Amodio e Gheorghe Iancu, è tra i protagonisti di alcuni tra i più prestigiosi balletti degli anni Ottanta e Novanta come lo Schiaccianoci, Carmen, Riccardo Terzo. Durante il periodo alla Terballetto ha occasione di lavorare anche con Gheorghe Iancu, con il quale nasce una collaborazione che la porterà a lavorare con lui come ballerina e assistente alla coreografia. Negli anni successivi è Maître des Ballets nei maggiori teatri d'Italia, nella stagione dal 1996 al 1997 al teatro alla Scala sotto la direzione di Elisabetta Terabuste. Dal 1997 al 2000 viene richiamata da Amedeo Amodio, allora direttore del Corpo di Ballo al Teatro dell'Opera di Roma in qualità di Maître des Ballets. Durante questo periodo interpreta anche invenzioni, coreografia di Amedeo Amodio, insieme ad Alessandro Molin, Cristina Amodio e Patrick King. Dal 2000 al 2002 è Maître des Ballets presso il Teatro Comunale di Firenze per maggior danza sotto la direzione di Elisabetta Terabuste. In questo periodo lavora, tra gli altri, con il coreografo Roland Petit. Dal 2002 al 2003 è Maître des Ballets presso il Teatro San Carlo di Napoli sotto la direzione di Elisabetta Terabuste. È nel corso di questi anni che lavora a stretto contatto con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Luciano Savignano, Isabel Guerena, Oriella Dorella, Lucia Lacarra, Ambra Vallo, Letizia Giuliani, José Perez, Manuel Egris, Maximiliano Guerra, Giuseppe Piccone, Alessandro Macario e altri. Nel 2009 è direttrice artistica dello spettacolo Abeta e José a cui prendono parte ballerini delle maggiori compagnie a livello mondiale tra cui Lorna Feo, Florencia Chinellato, Jicaru Caballashi, Nelson Madrigal, Hector Balla, Amilcar Moret Gonzalez e altri. Dal 2003 partecipa al programma televisivo Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Tuttavia, il 29 novembre 2023, una giornata uggiosa impressa per sempre nei ricordi di chi la conosceva, Alessandra Celentano ha iniziato il suo fatidico viaggio dalle strade trafficate. Mentre Alessandra Celentano guidava lungo le strade tortuose che portano alle montagne di Catskill, uno scherzo inaspettato del destino ha cambiato la sua vita per sempre. Era una giornata apparentemente normal, senza segnali premonitori di un disastro imminente. L'auto di Alessandra Celentano, fedele compagna di tante avventure, è stata investita nella parte passeggero da un gigantesco auto articolato. L'impatto fu catastrofico e le conseguenze immediate e devastanti. La collisione provocò ad Alessandra Celentano una serie di ferite gravi, una più terribile della precedente. Il suo cervello, il suo torace e i suoi polmoni hanno subito le conseguenze devastanti dell'incidente. L'osso orbitale che circondava uno dei suoi occhi era rotto, le sue costole erano rotte e anche il suo sterno era rotto. L'estremo dolore e l'entità delle ferite hanno causato un'ondata di preoccupazione tra la comunità medica e i suoi cari. Dopo un incidente, la risposta immediata dei primi soccorritori e dei professionisti medici è fondamentale. Alessandra Celentano è stata prontamente medicata sul posto e rapidamente trasferita al più vicino ospedale di Roma. Le sue condizioni urgenti richiedevano un intervento rapido e l'equip medica ha lavorato instancabilmente per stabilizzare le sue condizioni e affrontare le ferite mortali. Il percorso di recupero di Alessandra Celentano è stato faticoso e doloroso. Le sue ferite non solo l'hanno lasciata fisicamente incapace, ma l'hanno anche sopraffatta emotivamente e psicologicamente. Ha affrontato una feroce battaglia per la sua vita e la sua capacità di recupero è stata sorprendente. L'ospedale divenne la sua casa e le cure dedicate del personale medico, insieme al sostegno incrollabile della famiglia e degli amici, giocarono un ruolo fondamentale nella sua lotta per la sopravvivenza. Dopo l'incidente, Alessandra Celentano ha dovuto affrontare un lungo e faticoso percorso di guarigione. Le lesioni che ha subito, soprattutto quelle al cervello, al torace e ai polmoni, hanno richiesto cure e riabilitazione approfondite. Esperti provenienti da diversi ambiti medici si sono riuniti per fornire ad Alessandra Celentano le migliori cure possibili, con l'obiettivo di ripristinare le sue funzioni fisiche e cognitive. La terapia fisica l'ha aiutata a ritrovare forza e mobilità, ma non è stata priva di sfide. Le costole e lo sterno fratturati rendono dolorosi anche i movimenti più semplici. Gli esercizi di respirazione erano necessari per aiutare i suoi polmoni danneggiati a guarire, e il processo di ricostruzione delle ossa orbitali intorno agli occhi richiedeva l'esperienza di chirurghi esperti. Tragicamente, nonostante la sua ottima salute e il massimo impegno dell'equipe medica, Alessandra Celentano non si è salvata. Le ferite riportate nell'incidente erano semplicemente troppo gravi e le complicazioni sorte durante il recupero erano insormontabili. Il 30 novembre 2023, appena due giorni dopo l'incidente, Alessandra Celentano è venuta a mancare in ospedale, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi cari e di tutti coloro che hanno seguito il suo viaggio. L'improvvisa scomparsa di Alessandra Celentano è una perdita straziante per la famiglia, gli amici e la comunità più ampia. Non è stata solo vittima di un tragico incidente, era una persona vivace e talentuosa che ha toccato la vita di molti, la sua gioia di vivere, il talento e la capacità di portare gioia a coloro che la circondavano la rendevano una presenza preziosa nella vita di coloro che la conoscevano. ...quella di essere gialle. Hai capito bene, la xantofobia è la paura irrazionale del colore giallo. Da case gialle, a macchine di colore giallo, fino ad arrivare a persone che vestono il colore giallo. Un oxantofobico non è una persona a cui non piace questo colore, ma una persona che ne è assolutamente terrorizzata. La terapia è lunga ed estremamente complessa. Numero 5 La fobia al posto numero 5 è così terribile che può arrivare nei casi più gravi addirittura a costituire una minaccia alla sopravvivenza della persona che ne è vittima. Per capirla meglio, iniziamo pensando ad una persona che soffre di bulimia o anoressia. Perché un bulimico o un anoressico soffrono di questo male? Semplificando, la loro paura è quella di ingrassare, di avere una percezione negativa del loro corpo o di subire un rifiuto sociale a causa della loro immagine. Questo fatto, seppur terribile, è facile da comprendere. Adesso immaginati una persona che sviluppa l'oressia non per paura di ingrassare, ma causa di un'altra paura, quella di inghiottire. Il fagofobico ha timore di inghiottire qualsiasi cosa, alimenti, caramelle, pastiglie, praticamente tutto, a parte le sostanze liquide. I fagofobici affermano di avere paura che la cosa che stanno inghiottendo li si possa incastrare in gola. Quando si armano di coraggio e cercano di inghiottire un alimento solido, sentono che la gola li si chiude. La terapia è lunga e complessa e le persone che soffrono della forma più grave di fagofobia devono essere alimentate esclusivamente con sostanze liquide. È più che provato che alimentarsi unicamente di sostanze liquide possa essere sufficiente per sopravvivere. Tuttavia, il fagofobico è costantemente costretto a trovare forme alternative per ottenere tutti nutrimenti necessari alla sua sopravvivenza. Sicuramente una delle fobie più terribili e inspiegabili del genere umano. Numero 4 È a partire dal numero 4 della classifica che inizieremo a parlare di fobie davvero incredibili e illogiche. La fobia di cui ti parlerò qui di seguito è stata catalogata come la più assurda ed inspiegabile del mondo. Anche la pronuncia del suo nome non è facile. La componofobia è la paura dei bottoni. Un componofobico indosserà unicamente vestiti con cerniera o velcro. Forse penserai che esserne vittima non è poi così terribile. Tuttavia, può raggiungere livelli di un'esercizio.